Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Un episodio davvero assurdo si è verificato in queste ore. La giovane era in casa assieme ai suoi genitori ma aveva chiuso la porta del bagno, come solitamente si fa in questi casi. All'improvviso i genitori hanno ascoltato delle urla provenienti dal bagno. Immediatamente si sono precipitati all'interno della stanza dove hanno scoperto la figlia a terra, ormai esanime. Immediatamente sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 con i medici che purtroppo non hanno potuto far nulla. Per la diciottenne non vi era oramai più niente da fare. Era già deceduta all'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri, questo in quanto si vuole capire che cosa abbia provocato il decesso della ragazza. Da quanto appreso, pare che un filo della corrente elettrica fosse scoperto e la giovanissima accidentalmente avrebbe toccato il filo prendendo la scossa, molto probabilmente dopo essere stata morsa da un ragno. La ragazza avrebbe colpito il filo dopo aver avvertito il morso. Scossa che purtroppo è stata fortissima e che ha avuto conseguenze nefaste per la ragazza.